La figura del Data Entry Manager entra a far parte del reparto di oncologia dell'ospedale di Miccoli di Barletta presentato presso il Polo Universitario del Nosocomio Cittadino, il nuovo progetto in collaborazione con Calcit sostenuto economicamente dagli stakeholders del territorio con una cospicua donazione in favore del distretto sanitario. Questo è un nuovo progetto che si affianca al precedente per supportare il reparto di oncologia diretto dal dottor Gadaleta perché ci siano un inserimento di dati utili per una maggiore professionalità e un maggiore utilizzo dei dati ai fini dell'assistenza oncologica. Prevenzione e terapia nel lavoro che interesserà il Data Entry Manager, la raccolta di dati e valori numerici permetterà di rilevare in maniera più efficiente la strategia sanitaria da intraprendere andando a supportare così l'equip medica. Noi affianchiamo anche attività di ricerca clinica, quindi nell'ambito della ricerca clinica un gruppo che deve occuparsi di questo deve avere a disposizione una figura che è quella del Data Manager, cioè chi gestisce i dati e con la sua funzione di Data Entry, cioè di inserimento dei dati nella documentazione che noi abbiamo nell'ambito di uno studio poi siamo in grado al termine dello studio di esaminare questi dati e quindi di valutare il miglioramento o meno delle cure che noi somministriamo ai nostri pazienti. Grazie. 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 Grazie.